Serve, serve tanto. Se uno ci sta un po' vicino, sì, però la tragedia è stata. Morirono nella rogo della loro abitazione di Padonchia, comune di Monterchi. Lui carbonizzato, lei asfissiata dai fumi dell'incendio alle prime luci dell'alba dello scorso 23 dicembre. Un dramma che a pochi giorni dal Natale aveva scosso l'intera comunità, che adesso si è stretta nuovamente attorno alla famiglia Baldi, aprendo un conto corrente per aiutare i familiari delle due vittime, Giuseppe Baldi e Gina Scarcelli, di 86 ed 80 anni. L'abitazione dove vivevano il figlio, la nuore e la nipote, al secondo piano della palazzina, sarebbe compromesso dal punto di vista strutturale a seguito del rogo. Sì, è andato distrutto tutti gli effetti personali, dalla mobiglia, tutti gli oggetti, e anche l'abitazione ha subito dei danni strutturali importanti. Devono essere fatte ovviamente delle perizie strutturali, però possiamo immaginarci che i danni sono notevoli. Il conto corrente al loro dedicato è stato aperto presso la banca di Anghiari Estia, dove sia cittadini che associazioni potranno effettuare liberamente i versamenti. La nostra è una piccola comunità, noi dobbiamo aiutare una famiglia che ha subito un dramma così grande. Noi ci immaginiamo che poteva capitare a chiunque di noi, quindi dobbiamo essere solidari con loro in tutti i sensi, quindi dobbiamo aiutarli.